Oggi e domani un appuntamento importante con l'inizio dello spettacolo previsto per le 21. Cosa vedremo? Cosa vedremo? Una casa da pazze, perché noi questi siamo, io e Guglielmo e Lori con Maria Grazia Sanzo. Una commedia bellissima di D'Alessandro, una commedia che parla di tutto, di pazzia, di matrimonio che si rompono, di amante, insomma. È un mixer perfetto. Vi siete trovati dunque meraviglia per interpretare questa rappresentazione. Certo, a nostro agio si dice. Sì, sì, benissimo, ci siamo trovati. Il copione è un po' particolare, però è divertentissimo. Basta sapere che Guglielmo fa un pesacchiatrico, si è chiamato un pesacchiatrico e allora, guarda, la commedia è già tutto un da fare. E la pre-vendita com'è andata al momento attuale? Allora, lo dico e lo ripeto, la pre-vendita è andata bene, ma ci sono tantissimi posti. La gente dice tanto all'antidoto, quando ci sono loro i posti non ce ne sono. Non è vero. Possono venire tranquillamente, anche all'ultimo momento troveranno il posto. Ci sono ancora centinaia di biglietti liberi, fra il mercoledì e il giovedì. Ma non soltanto teatro, c'è anche una chicca che oggi sveliamo ai nostri telespettatori, parliamo di cinema, perché tu e Guglielmo avrete una parte importante nel film di Ficarra e Picone. Sì, abbiamo avuto questo provino inaspettato, così ci hanno chiamato tramite amici, è riuscito bene. Io a settembre ho registrato le mie due scene, Guglielmo ha registrato le quattro scene, lui farà il vigilo urbano, io invece farò uno che va al comune a domanare la raccomandazione per una carta di identità. E poi lavorare con Valentino e Salvo è uno spettacolo. Siciliani come noi sono. Il film si intitola? L'ora legale, ma l'ora legale perché dice arriva l'ora legale, non è l'ora legale la luce, l'ora legale perché lui è il cognato del sindaco da oggi in poi, l'ora legale. Quando vedremo il film? Inizierà il debutto il 19 gennaio 2017 in tutte le sale d'Italia, ovunque vi trovate, anche all'antidoto.